Serie B-Win, tutti i colori della passione. Nella diciassettesima giornata di Serie B-Win, la capolista Torino ospita l'Olimpico il Livorno. Granata che non vincono da telegare, cercano il ritorno al successo all'ultimo momento. Vives schierato al posto di Sgrigna nel Torino. L'ex novellino invece presenta un 3-5-2, formazione senza particolari problemi per il Livorno. Un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'alluvione che ha colpito la Sicilia, in particolare la provincia di Messina. Poi si parte arbitra Giancola di Vasto. Ed è subito il Torino a farsi vedere in avanti con Ebagua per Vives la sua conclusione. E Bardi si fa vedere respingendo con questo primo suo intervento di giornata. Risponde sul front opposto il Livorno sugli sviluppi di questo corner. C'è il tentativo di girata di Dionisi. Bella la rovesciata alta sopra la traversa della porta dei Granata. Rivediamo il bel gesto atletico da parte di Dionisi. Il Torino con Vives che vince un contrasto. L'apertura per Antenucci che entra in area di rigore. Punta l'avversario e poi va al tiro. Il diagonale rispinto ancora di piede dal portiere Bardi. Sul front opposto il Livorno. Una girata alzata comunque molto solpra la traversa. La conclusione di Dionisi. Poi c'è questo fallo di Lambrughi su Bascia nella zona centrale del campo. Ammunizione per il giocatore toscano. Punizione di D'Ambrosio per il Torino al 43esimo. Pallone in mezzo. Non ci arriva Ebagua. Non ci arriva Knezzevic. La palla sfiora. Lo specchio della porta del Livorno. Come vedremo meglio nel replay. Nessuno dei due giocatori tocca il pallone che termina sul fondo. Finisce così 0-0 il primo tempo. Si riparte nella ripresa. Ancora con il Torino in attacco. Punizione di D'Ambrosio. Il pallone a spiovente. Arriva Glick. Colpa di testa. Para terra Bardi. Sempre positivo alla prestazione del portiere del Toscano del Livorno. Ora è Dionisi. C'è un pestone in area di rigore. Proteste da parte di Luci per il mancato fischio. Questo intervento duro. L'ammunizione per Perticone per il fallo. Su Antenucci scatena le proteste. Con Ventura che si arrabbia moltissimo. E pochi istanti dopo espulsione per Ventura. Anche per il tecnico del Livorno Novellino. Che si erano beccati. A guidare le squadre sono Sassassullo e Massimo Morgia. I due vice per questa parte finale di gara. Per l'ultima mezz'ora. L'espulsione infatti alla quarto d'ora della ripresa. Se ne va bene Verdi. Palla in mezzo. E poi Perticone per liberare. Mette sul fondo. Per poco non crea problemi alla propria porta. Ancora il Torino che prova a spingere con D'Ambrosio. Affrontato da Lambrughi che lo mette a terra. C'è il secondo cartellino giallo per il giocatore toscano. Espulsione. Ultimi minuti in dieci uomini per la formazione del Livorno. Angolo. Batte Verdi. Colpo di testa. Tentato da Glic. Palla alzata sopra la traversa da Bardi. Ancora in corner. E sul corner seguente Verdi a battere ancora dalla destra. Pallone in mezzo. Paoligno a liberare. Controlla il pallone Parisi. Tiro di sinistro. Ed è il gol all'ottantunesimo di Alessandro Parisi. Che porta in avantaggio il Torino. Nove minuti dal termine. Sblocca il risultato. E premia la pressione offensiva nella ripresa della formazione Granata. Primo gol stagionale per Parisi. 1-0 importantissimo per il Torino. Torino che trova lo spazio per andare poi nella finale in contropiede. Bella azione con Antenucci in area. Controlla. Può andare al tiro. E para Bardi in due tempi. Bloccando la possibilità del possibile raddoppio dei Granata. Granata che vincono però per una rete a zero dopo tre giornate. Tornano al successo. Salgo la quota 38. In previsione della trasferta in quella di Padova. Dove faranno a meno di Bache e Wives squalificati. Rientrerà però Rolando Bianchi.